E' l'ennesima volta che vengo al festival, li ho seguiti tutti, non un economista che abbia previsto un disastro del genere e quindi venivo un po' titubante. Tante teorizzazioni, ideologizzazioni, ma bisogna vivere nel mondo reale dell'economia e dell'impresa per capire esattamente i fenomeni economici e finanziari di Italia, d'Europa e del mondo. Però vengo allo stesso, si tratta di confrontarsi, di approfondire e certo non ho mai mancato di porre questioni anche un po' problematiche alle quali ho avuto risposte concrete.